del panorama e con questa nuova coreografia sono sicuro, ecco vedete che gli artisti vengono apposta per vedere soprattutto lei, va bene dicevo siamo pronti per presentare questa nuova coreografia di Salsa e Baciata, la coreografia si chiama Juntos alla Par, che vuol dire praticamente insieme andremo avanti, cominciano ora il loro percorso e sono convinto che tanta strada faranno, ladies and gentlemen fate sentire il calore per Alice Sirosi e Javi Fernanda Grazie Con un simple aguacera di estrellitas e duendes vagare con tu ventre mordendo cada ilusione vivirás en mis sueños como tinta indeleble como mancha de acero no se olvide di amar cuando dos hacen amor me toste tus venidas en un sol de la tarde se descarga mi cuerpo y lo vivo un segundo para decirte que sin ti muero se descarga mi cuerpo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.